domenica 4 luglio alle ore 12 e 20 sul rai 1 linea verde estate riprende il suo viaggio proprio dove nella precedente stagione aveva concluso la sua avventura nel cilento meraviglioso scrigno di storia tradizioni e natura incontaminata dal fresco degli orti di stagione ai legumi dei cereali selezionati dalla biblioteca del grano del monte frumentario alle varietà di grano tipiche del territorio lucano in provincia di salerno in un'azienda agricola a conduzione familiare la coltivazione dei terreni attraverso le buone pratiche di agricoltura organica rigenerativa rispettose dell'ambiente senza l'utilizzo di pesticidi o concimi chimici di sintesi un rito che si tramanda da padre in figlio a marina di pisciotta immersi nei rumori notturni del mare la pesca degli alici con la menaica antichissima tecnica di pesca oggi gelosamente custodita in pochi borghi marinari del cilento e la loro conservazione sotto sale il fascino del mondo animale a sala consilina non lontano dal fiume tanagro l'emozionante storia di una coppia di cicogne bianche l'unica in italia che da marzo ad agosto da oltre 20 anni puntuale nidifica sullo stesso traliccio nel cuore del ballo di diano per dare alla luce la prole la magia del santuario della madonna della neve la cascata dei capelli di venere spettacolo naturale unico che sembra uscito da un libro di fiabe bosche a perdita d'occhio a quota 1899 metri sul livello del mare il punto più alto del cilento sul monte cervati la bellezza mozzafiato dei luoghi incontaminati pregio naturalistico del parco nazionale del cilento vallo di diano e alburni il benessere degli animali in allevamento la razza bufalina riconosciuta nel 2000 grazie al millenario isolamento nel mezzogiorno d'italia l'incontro di due eccellenze del cilento l'originale innovazione di un prodotto tradizionale ad ascea la bontà della mozzarella di bufala con il cuore di olio extravergine d'oliva tutto questo nella puntata di domenica 4 luglio in onda sul rai 1 alle ore 12 e 20